Ben ritrovati al consueto spazio dedicato agli appuntamenti. Venerdì 15 marzo, presso il Paprika Jazz Club di Dalmine, si terrà il concerto della band dei Sunny Blues, con Max Marchesi alla voce, chitarra e kazoo, e Marco Sacchitella alle percussioni. Si tratta di un intrigante progetto acustico che nasce come musica da strada. Il costo dell'ingresso è di 5 euro. Sempre venerdì, presso la sala della Fondazione Serughetti-La Porta, a partire dalle ore 18 si potrà assistere alla presentazione del libro dal titolo Rifare la spiritualità, Dio alla ricerca dell'uomo, del filosofo e teologo Armido Arizzi. L'autore offre il profilo di una spiritualità che si sviluppa coerentemente intorno all'amore divino per l'uomo. Dialogherà con l'autore Don Ezio Bolis. L'ingresso è libero. Gli appassionati di arte, sempre sabato, potranno partecipare all'inaugurazione della mostra dedicata ai dipinti di Bernardo Peruta, artista bergamasco che ha esposto in tutta Europa. In essa, figure contemporanee spiccano su fondi di antichi affreschi per raccontare tenerezze e quotidianità. L'apertura della mostra è prevista alle ore 18. L'ingresso è libero. Sempre sabato, presso il Teatro Kreberg, alle 21, andrà in scena lo spettacolo teatrale dal titolo Il Sose di Lui. Sul palco, il comico emiliano Paolo Cevoli, nei pani del meccanico Pio Viva Dio, detto nullo, racconta la sua riccione degli anni 30 e 40, tra politica, tradimenti, fasti e splendori. Si consiglia la prenotazione. E per finire, ancora sabato sera, al Bopo di Ponte Ranica, a partire dalle 21.30, si potrà assistere a una serata di blues con la BB Band, che ripercorre le epiche geste dei fratelli Jack e Delwood. L'ingresso è libero.